Clelia Eliana Caleffi ed Ezio Grosso, già primario di rianimazione, sono stati eletti rispettivamente alla carica di Presidente e Vice Presidente della Casa di Riposo di Via Agnesi e Imperia. Entrambi sono stati nominati nel Consiglio di Amministrazione dal Comune d'Imperia. Completano il CDA Mirella Diana, Monsignor Regno Bezzone, Parroco della Basilica di San Giovanni e Don Paolo Pozzoli. La Presidente e il Vice Presidente sono stati ricevuti dal Sindaco Claudio Scaiola, che ha augurato loro buon lavoro e ha ribadito gli indirizzi del mandato. Il Sindaco ha evidenziato che la Casa di Riposo di Via Agnesi ha grande potenzialità, anche se ha sofferto, come altre, nel corso dell'attuale emergenza sanitaria. Al nuovo CDA aspetterà prima di tutto proprio il compito di risolvere le criticità annose e di valorizzare la struttura, secondo il Sindaco, anche valutando un possibile ampliamento. Clelia Eliana Caleffi, cavaliere della Repubblica, è stata responsabile dal 2009 al 2019 della Segreteria e Generale Amministrativa del Polo Universitario Imperiese. Il dottore Ezio Grosso, già primario di anestesia e rianimazione presso gli ospedali di Imperia e Novara, è medico del lavoro con oltre 40 anni di esperienza. Il CDA si riunirà giovedì 14 maggio per esaminare i bilanci e le principali tematiche relative alla gestione della Casa di Riposo.